Twitter no, ma anche perché chi ci va più su Twitter? Beh io non, appunto, io una volta ho provato a mettere Twitter non ho capito assolutamente niente e l'ho disinstallato subito Nuova Cigno Intervista, io sono Marco Cignoli di nuovo su Jab Media TV e oggi ho il piacere di avere ospite uno dei due componenti di una band fiorentina davvero talentuosa, molto molto bravi il capitolo 21 e per la precisione è qua con me Marcello, ciao Marcello buongiorno Ciao, ciao, come stai? Bene, tutto bene, non c'è male, tutto bene Tutto bene, grazie, tutto a posto Dove ti trovi tu in questo momento? Vedo delle chitarre alle tue spalle Sì, in questo momento sono nel mio studietto piccolissimo, tipo sarà un metro quadrato e niente, stavo suonacchiando un po' qualcosina di nuovo, giusto per tenermi un po' in allenamento Quante canzoni sono nate in questo studietto piccolino quadrato? Allora, in questo angolo ancora poche perché l'ho finito un paio di settimane fa però diciamo che in questo spazio è comunque l'impicciolito sistemato abbastanza tutte quelle che poi sono uscite finora e usciranno Ok, per esempio, giusto per citare una canzone a caso Campari arriva un po' da quell'angolino lì oppure no? No, in realtà guarda, Campari no Campari è nata in Sardegna l'estate scorsa, nel 2019 un giorno così completamente a caso, chitarla, spiaggia no? Spettacolo, meraviglioso Alla vecchia Alla vecchia, esatto, bellissimo Allora, per chi non lo sapesse, Campari è il vostro nuovo singolo, il nuovo singolo del capitolo 21 è uscito da qualche tempo su tutti i digital store, quindi potete acquistarla, ascoltarla potete guardare il video, fare quello che volete Allora, la prima cosa che ti dico, e non lo dico perché sei qua con me ma io questo brano l'ho inserito immediatamente nella mia playlist privata e personale di Spotify non appena l'ho ascoltato perché lo trovo fighissimo quindi, prima cosa, complimenti Seconda cosa, per rimanere in tema, come dire, in tema drink rimanere proprio sul tema lo trovo un cocktail perfettamente equilibrato e molto ben riuscito di generi musicali voi arrivate in realtà da un background un po' più rock e questa volta avete voluto mischiare parecchio l'esigenza arriva da che cosa? dalla voglia di divertirsi, di sperimentare, come mai? in realtà, questa è una bellissima domanda in realtà è stato un processo abbastanza naturale nel senso, come dicevi tu, sì, siamo nati come una band comunque rock da sempre, poi piano piano abbiamo iniziato a sperimentare ma io penso che c'è stato questo cambio, tra virgolette giusto perché sia io che Mattia siamo comunque due persone penso abbastanza aperte sui generi personalmente io ho iniziato suonando chitarra poi mi sono spostato verso altri strumenti mi è sempre piaciuta la sperimentazione di conseguenza anche gli stili a me piace tutto se è bella musica mi piace tutto che sia rap, ma addirittura trap che sia indie, che sia pop, che sia dance basta che sia una bella canzone e mi piace quindi questo cambio così questo mix sì, un esperimento perché comunque già Campari anticipa altre canzoni che comunque dettano già un cambio non di stile ma di vedute rispetto a vecchissime canzoni che abbiamo pubblicato quindi volevamo dare un cambio proprio netto fin da subito per far capire che da adesso in poi comincia ad essere una cosa diversa di stile perché comunque ci ha sempre un po' ascoltato o seguito quindi Campari era quella che poteva tagliare di netto subito quello il passato insomma secondo me il messaggio a livello musicale è arrivato forte e chiaro perché davvero quello che dici è tranquillamente raccontato dalla canzone tra l'altro insieme a voi nel brano c'è anche un artista un rapper molto bravo ti va di raccontarlo? sì Filippo beh NOS in arte è stato una bella scoperta perché penso che Campari è praticamente stata conclusa durante il periodo del lockdown a distanza con il nostro produttore abbiamo lavorato per mettere le basi per poi terminare tutto a giugno una volta finito tutto quello che purtroppo abbiamo vissuto e Filippo l'ho conosciuto completamente a caso perché mi è stato proposto da delle conoscenze sui social perché io e Mattia abbiamo pensato proviamo a vedere cosa esce fuori con un featuring in questa canzone però non conoscevamo nessuno o comunque qualcuno di molto valido mi hanno detto guarda le storie o comunque i profili di questo ragazzo ho conosciuto questo ragazzo comunque che è giovane poco più piccolo di noi insomma del 99 vado a vedere il suo profilo e pubblicava questi pezzi scritti da lui su basi di altri e aveva una penna bella cioè fantastica proprio non era banale temi importanti è una cosa che poi io appoggio sempre insomma i testi per me sono molto importanti personalmente quindi niente ci siamo lanciati ed è uscita una bella cosa e nonostante tutto lui se l'è cavata molto bene perché lui non aveva mai lavorato a un pezzo prima d'ora a un inedito neanche suo quindi per lui è stata proprio la prima esperienza e devo dire che se l'è cavata molto bene infatti io sono abbastanza penso che se riuscisse a trovare la giusta strada potrebbe fare qualcosa di interessante infatti adesso comunque stiamo lavorando insieme per aiutarlo bravi fate bene tra l'altro quello che hai detto cioè che è stata la sua prima esperienza assolutamente non si nota non l'avevo neanche lontanamente pensato quindi evviva il lavoro che ha fatto io voglio parlare di te e con te anche del video perché mi ha colpito mi ha colpito la canzone poi ho visto il video successivamente e ho detto ok questo video è la dimostrazione che senza dei budget voglio dire multimilionari ma con creatività divertimento originalità si possono fare delle cose veramente belle che valorizzano il pezzo e soprattutto premi play e ti guardi il video dall'inizio alla fine come è nato questo video tra l'altro molto vintage anche nel formato come è andata? beh il video innanzitutto ti ringrazio per quello che hai detto che sono molto contento ovviamente e il video in realtà è così è nato proprio come si vede perché avevamo in mente una cosa completamente no sense esatto quindi noi abbiamo sempre fatto dei videoclip abbastanza seri seguendo la canzone cioè è una cosa che ci piace molto e sicuramente anche in futuro la rifaremo però volevamo anche un po' far capire alle persone alla gente chi siamo un po' nella realtà cioè al di tutto al di fuori della musica della serietà della musica che senti delle cose serie insomma cioè noi siamo così capito siamo due ragazzi siamo due scemi sostanzialmente cioè e poi i due videomaker che lavorano con noi diciamo che ci hanno aiutato a fare arrivare alla gente questa cosa e nulla comunque il video è stato molto divertente e sì come dicevi tu con budget veramente buoni o bassi comunque si riesce a fare belle cose se secondo me si ha la pazienza di arrivare a dei risultati buoni soprattutto secondo me come dico sempre di quella di avere una buona squadra dietro con cui si lavora tutti bene comunque noi siamo tutti molto giovani e io devo compiere 24 anni i videomaker sono tutti più piccoli di me quindi siamo veramente tutti molto giovani e lavoriamo tutti insieme per arrivare a qualcosa quindi ci sosteniamo tutti a vicenda quindi questa secondo me è la fortuna più grande voi siete giovanissimi e vi siete conosciuti cinque anni fa dove e come vi siete conosciuti a scuola oppure fuori da scuola più o meno più o meno nel senso che io venivo da un progetto precedente che purtroppo andò male tramite le conoscenze comunque nel giro musicale qua di Firenze mi presentarono Mattia che lui non è pirentino lui è sardo però studiava musica qua a Firenze e di conseguenza ci siamo incontrati abbiamo chiacchierato un po' del più e del meno già da subito avevamo molte cose in comune nel senso che su molti insomma andavamo molto d'accordo da lì l'idea dai andiamo in studio vediamo cosa riusciamo a fare proviamo un po' insieme proviamo un po' insieme tra una cosa e un'altra è nato tutto ecco è andato tutto abbastanza da sé non c'è stata nessuna forzatura fin da subito ci siamo trovati bene avevamo le stesse idee quindi abbiamo detto bene vediamo dove arriviamo io sul vostro rapporto volevo approfondire un attimino perché mi affascina sempre quando una coppia artistica riesce a portare avanti un progetto ormai sono 5 anni quindi non è poco non c'è una maggioranza quando sei in due quindi se c'è da prendere una decisione spesso magari si può fare a cazzotti voi siete ancora insieme e dalla tua faccia lo immagino lo capisco mi confermi questa cosa cos'è che vi tiene uniti cioè al di là della passione per la musica e dall'obiettivo che probabilmente avete di raggiungere dei risultati sempre più importanti però secondo me c'è sempre qualcosa di più profondo magari un vissuto comune o qualcosa di simile beh sicuramente al di là di tutto al di là della passione ogni cosa c'è veramente un legame forte di amicizia cioè ormai io e Mattia negli ultimi anni abbiamo veramente vissuto di tutto e di più cioè cose belle ma tante 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 brutte quindi negli anni abbiamo consolidato veramente un rapporto di fiducia di amicizia ma ormai più che amicizia di fratellanza perché per me è come fosse un fratello mancato quindi andiamo molto d'accordo poi sì come in tutte le coppie ci si scanna si litiga si scute perché io personalmente ho il mio carattere lui pure però comunque devo anche ammettere che secondo me avere due ruoli ben definiti aiuta ad andare avanti nel senso che io nei capitoli 21 ho il mio ruolo e Mattia non calpesta mai il mio ruolo di conseguenza Mattia è il suo e io so che quello è il suo punto e io non andrò mai ad intaccare nel suo a meno che magari ci chiamo dei consigli o ci facciamo notare certe cose e di conseguenza riusciamo a lavorare a lavorare bene quindi io penso che alla base di tutto ci debba essere sempre un rapporto vero di amicizia perché come dico sempre per esempio noi comunque siamo nati come una band all'inizio all'inizio però anche se siamo rimasti un duo e ci etichettano sempre come una band io dico sempre prima di una band bisogna imparare ad essere gruppo che essere gruppo è un'altra cosa torniamo a Campari mi dicevi già prima che insomma questa canzone apre le porte a un progetto più ampio progetto più ampio vuol dire album vuol dire nuovi singoli cosa succederà? vuol dire tutte e due oh ma che bello sì siamo in realtà contenti ma più che contenti abbiamo un'ansia stai a coltello perché quando quando escono canzoni nuove è sempre bello ma anche brutto nel senso che si ha sempre paura di come possa reagire la gente o se magari i ragionamenti che si fanno soprattutto penso come me tantissimi tutti quelli che all'inizio non siamo nessuno tipo della serie bah chissà se questa canzone mi aiuterà a fare questo chissà se potrò poi pensare quindi noi speriamo che questo progetto possa andare bene comunque se Campari è il primissimo singolo e come ti dicevo prima era quello che ci serve un po' per cambiare tra virgolette le orecchie di quelli che ci hanno sempre ascoltato e cercare di prendere magari qualche persona in più adesso tra poche settimane più o meno uscirà il secondo singolo e già lì comincia in realtà a tornare tra virgolette un po' di influenza un po' più rock ma siamo sempre sul pop più o meno fino ad arrivare al terzo singolo che anticipa di veramente pochissimo l'album e incrociamo le dita speriamo bene le incrocio anch'io per voi avete già programmato tutto meraviglioso sì stiamo solo aspettando che il tempo piano piano ci uccida con l'ansia ma ci sta è normale se non ci fosse l'ansia non sarebbe così bello quindi ci sta ma quando è uscito a Campari come hanno reagito le persone che vi ascoltavano prima e vi conoscevano un po' più diversi ma in realtà siamo rimasti molto contenti perché infatti la sera stessa che è uscito a Campari io ero già a Firenze Mattia era ancora in Sardegna a distanza praticamente abbiamo brindato fatto un casino nero perché dopo circa un paio d'ore ci erano arrivati veramente una marea di messaggi ed eravamo veramente contenti in quel momento eravamo proprio gazati devo dire che in realtà hanno riuscito abbastanza bene ce ne sono stati alcuni che magari erano più abituati a certe cose che magari hanno detto rapper e noi vabbè rispondiamo sempre aprite la mente zen aprite la mente ascoltate lasciatevi trasportare i nuovi ascoltatori i vostri nuovi ascoltatori che non vi conoscono dove potranno scoprire la nuova musica tutti questi progetti che arriveranno dillo tu beh ovunque ovunque basta cercarci chi ne avesse voglia noi ci siamo siamo disponibili poi per chi avesse anche voglia di seguirci potrà trovare due scemi sui social che fanno praticamente i cazzoni dalla mattina alla sera sostanzialmente perché siamo questo qua facebook twitter instagram insomma tutti i vari social presumo ci siano twitter no no vabbè ma anche perché chi ci va più su twitter ma io non appunto io non ho una volta ho provato a mettere twitter non ho capito assolutamente niente l'ho disinstallato subito io giuro di averci provato ma no per validare come possa funzionare lo so è il delirio lo so me ne rendo conto va bene quindi ovunque tranne twitter ok esatto ok intanto ricordiamolo campari è il vostro ultimo singolo uscito in attesa del prossimo e dei prossimi lo trovate su tutti i digital store ovviamente in digital downloading anche rotazione radiofonica e se posso darvi un consiglio uno mettetevelo in playlist perché diventerà uno dei vostri pezzi preferiti ve lo posso assicurare a parte che è immediato l'amore per questo brano ma averlo in playlist è ancora meglio perché ve lo ascoltate sempre di più e poi un altro consiglio guardatevi il video perché è bellissimo è una figata e di video così secondo me se ne vedono pochi quindi andatevelo a guardare io ringrazio un sacco marcello salutiamo salutiamo anche mattia che non è con noi ciao matti ciao ciao speriamo magari col prossimo singolo di avervi entrambi in bocca al lupo e complimenti complimenti beh crepe grazie mille è stato un piacere piacere mio a presto ciao 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 ciao